salve tutto il mio canale sono mister mario se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale lasciato like e condividete il video più ne siamo meglio è questo lo dico sempre quello che adesso vi vado a presentare un semplice filtro anti disturbo che applicato tra la presa elettrica e il vostro dispositivo eliminerà molti di quei difetti provocati a disturbi spuri che l'impianto elettrico preleva davvero da vari sorgenti scusate la lingua stamattina attaccata e trasferirsi su tutte le apparecchiature alimentate a 220 vols effetti sarà capitato a molti di avere degli spiegabili problemi sull'apparecchiatura specialmente sull'amplificatore quando sentite di strani ronzi questo perché su un impianto elettrico vanno ad accumularsi tantissimi disturbi provocati ad esempio da una lampada a neon non è il nostro caso che faccio l'esempio che c'è il reattore dentro che provoca questi fastidiosi problemi sulla rete elettrica oppure una lavatrice una spira pulvera oppure quando si azioni il compressor del frigorifrico tutti questi sono disturbi a impulsi che vanno ad accavalarsi sull'onda sinusidale della 220 quindi passa nell'amplificatore e li sentiamo sottofondo che da fastidio perché bisogna premettere che se avete un amplificatore non di buona qualità questi filtri all'interno non ci sono e questi captano tutto il segnale danno fastidio andiamo direttamente analizzare quelle che lo schema che vedete sopra il monitor sopra il video questo schema qua è stato realizzato da nuova elettronica io sono un vecchio lettore della nuova elettronica purtroppo ormai non c'è più ma conservo tutti i loro articoli questo articolo questo pardon questo progetto dovuto modificare adattarlo alle mie esigenze parto prima che come premessa e questo è un progetto che poteva essere applicato a come carico massimo 250 watt però in questo caso io ho un carico di un computer che può arrivare fino a mille watt se è in pina in pieno lavoro non arriverà mai a quella della portata però ho modificato i progetti in modo che potesse comunque sopportare un carico dei generi quindi ho dovuto modificare un po la bobbini e alcuni altri valori in più nella parte iniziale del progetto ho applicato una modifica che non era prevista nel progetto originale o inserito di vari store in modo che si entra all'interno del filtro un'extra tensione intervengono i vari store e fanno saltare il possibile che ho calcolato da 5 ampere perché se ho previsto un carico da mille watt quindi 220 vostri 5 abbia andiamo oltre 1100 watt ovviamente non vi consiglio di superare questa portata perché i cavi e sezioni utilizzato qua sono limitati a una potenza massima di mille watt andiamo a spiegare il progetto ai due capi della 220 quindi all'ingresso ho posizionato cioè è stato posizionato un condizionato da 680 pico farad che cosa fa in pratica praticamente andrà a cortisciutare tutte quelle frequenze pure che non sono i 50 hertz ovviamente tutto quelle che andrà più o meno sopra i 50 hertz il condensatore andrà a cortisciutare perché all'interno del condensatore si formerà una resistenza bassissima per quelle frequenze e andrà a fare micro micro cortocircuiti che ovviamente non influisce nei sui vari store né sul flussibile neanche sul contatore perché sono microscopici cortocircuiti poiché questo condensore non riuscirà ad attenuare completamente tutti quelli che sono i difetti i problemi sulla rete segue un toro idale che come valore va dai 0 1 ai 2000 micro a r r che questo qua provvederà praticamente a eliminare tutte le altre frequenze che danno fastidio effetti allora diciamo che questo qua da 180 680 mila pico farad va a cortocircuitare tutte quelle che sono le frequenze che vanno sopra i 50 hertz quindi funziona come filtro per pulire le frequenze invece questo qua per ripulire tutto quelle che sono i disturbi magnetici all'interno della rete a seguire un ulteriore filtro che provvede invece a fare un cortocircuiti direttamente a massa quindi è semplice da intuire che questo filtro ha bisogno di un collegamento a massa per funzionare per essere del tutto ottimale adesso vi faccio vi mostro praticamente la realizzazione pratica di questo circuito e poi a occhio e croce non costa neanche tanto realizzarlo metto speso neanche 5 euro e me ne sono avanzati anche altri pezzi per tino realizzata anche un altro di questo filtro che andrò ad applicare su pc di mia figlia questo premetto che nel progetto iniziale a solo due prese per questione di spazio che il contenitore con reciclato era molto piccolo però il progetto finale in quelli che andrò a realizzarne andranno tre perché devo andarci che devo andare pardon e la mia dialettica devo andare ad applicare anche l'amplificatore perché dà fastidio questo ronzio di fondo a che mi mostro la parte pratica del circuito la parte assemblata non vi voglio non vi ho voluto annoiare nel momento in cui ho saldato tutti i componenti perché non tutti piace vedere quando va levata a saldare ok è importante assemblare questa bobina qui quale materia da utilizzare usate anelli di colore nero o grigio che sono gli anelli che hanno il taglio di frequenza che interessa a noi quindi sui 50 60 hertz come va avvolta alla la bobina deve avere un numero di spire pari 1 2 3 4 e 5 1 2 3 4 e 5 se vedete o avvolto in coppia con questi quel blu per aumentare i passaggi di corrente perché vi ricordi che progetto originale di nuova elettronica sopportava massimo 250 watt con questo sistema qui posso arrivare fino a 1000 watt importante che usate uno spessore che sia superiore al 0 50 anche quello di nuova elettronica era 0 50 questo qui è di un millimetro che messi in coppia da due millimetri a un ottimo passaggio di corrente corrente più elevata quindi siamo là di due di due millimetri a voglia a fare andava bene anche due mitre e mezzo ma il problema è che essendo lo spesso molto alto mi è difficile fare il passaggio quindi così era più morbido e sono riuscito a fare questo passaggio qui il cuore di questo progetto è proprio questa bobina che permette di filtrare tutte le interferenze elettromagnetiche invece il condensatore che è posizionato qui all'ingresso filtra quelle che sono le frequenze di disturbo sopra alla 220 quando accendete il fono o la scopa elettrica e alle e all'uscita ne sono posizionate altri due che sono messi praticamente tra la fase e la massa e in neutro e la massa quindi capirete che è importante che questo circuito per funzionare bene ha bisogno della massa messa scarica sull'impianto e ovviamente ho posizionato anche due varie storie in modo a proteggere il il dispositivo se c'è un picco di alta tensione ovviamente prima di questo ho posizionato un fusibile un classic fusibile da 3 ampere però lo potete portare anche al 5 ampere dipendono a carico che andrete a mettere sopra il dispositivo qui andrà a utilizzare sia un monitor che sulla testa di gas e il monitor che il compito i vetti mio e devo provare un altro modello più ordinato ho ricicurato questo contenitore giusto per per eliminare quelle che sono gli attrezzi in più questo dispositivo qui c'è questo filtro lo equipaggiato devo ancora chiuderlo devo fare anche sporcato un po con la ruggine lo equipaggiato con un interruttore con una luce spia e questo piccolo mini voltometro amperometro adesso accendo un attimo così vi faccio vedere perché ho collegato tutto devo solo chiudere e installare qui c'è il fusibile di protezione ecco qui e segna 238 su 220 240 la linea di casa segna 0 per perché non c'è il carico adesso devo finire di chiuderlo e andiamo a metterci lo ammetticelo a installarlo sopra la mia ciabatta dovevo andrà in monitor e il computer allora applicato praticamente sia il monitor che il mio computer al dispositivo lì c'è ancora da aggiustare un po i cavi effetti gli devo ancora chiudere sotto andavo di fritto perché volevo collaudare il funzionamento di questo dispositivo e devo dire che parlando per i monitor non ho disturbi questo è un vecchio monitor si chiama ans ce l'ho praticamente da dieci anni non ha un buon filtro per i disturbi a volte mi dava delle righe e questo problema è completamente sparito il computer beh il computer ha un alimentatore il cool master quindi è perfetto disturbi non ho mai avuti ma i problemi hanno malico con il computer più che altro ecco l'amplificatore il che ho qua è un amplificatore che prese da amazon si chiama dina dina box lì di applicare il filtro non l'ho fatto direttamente prima su compa sul l'amplificatore lo potevo fare prima sul computer però preferisco avere una protezione quelle extra tensioni visto che come avete visto lo schermo applicato di vari storie quindi è più importante proteggere il mio computer che è piuttosto l'amplificatore l'amplificatore se ne possono comprare comprare un computer nuove non vale la pena l'unica cosa che purtroppo sono rimasto deluso io qua ho applicato un voltometro amperometrico cinese il voltometro funziona benissimo ma l'amperometro no funziona perché qua non si vede ma a valore zero probabilmente mi arrivato difettoso vediamo i prossimi contro a realizzare che ne devo acquistare un altro visto che devo fare un altro modello a tre prese detto questo detto questo vi lascio e vi raccomando come già io ha anticipato lasciate un like iscriviti al canale e ci vediamo la prossima volta sperando che trovo qualcosa di interessante da realizzare e proporvi